Si sente un po' antifascista lei, a differenza del Presidente del Senato? Guardi, se lei avesse un po' di memoria storica, cosa che non ha, c'è una puntata di Piazza Italia dove mi domanda il conduttore Formigli ma tu che cosa avresti fatto se fossi vissuto in quegli anni? Io avrei detto che avrei fatto il partigiano con le brigate però di Edgardo Sogno, i partigiani italiani, non comunisti, oppure le brigate mazzini, i repubblicani che pure hanno avuto sempre la mia attenzione. Però lei se avesse studiato un po', però me lo deve mandare in onda tutto quanto, lo deve tagliare, dovrebbe sapere che il Parlamento europeo nel 2019 ha approvato una mozione votata anche da una parte del PD, non da tutto il PD ma da una parte del PD, nella quale si dice che il comunismo è pari al nazismo, quindi io dico di essere antifascista ma lei, domanda, si sente anticomunista? Io sono anticomunista, certo. Lei è anticomunista? Io sono antidittatura in generale. Quindi anche anticomunista. Certo, certo. Lei è anticomunista?